Salve ragazzi, benvenuti oggi a questo brevissimo video SR Cristiano per voi e niente, vi devo dare una brevissima comunicazione del perché comunque sia in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane non sono usciti praticamente i video e niente, praticamente sto sotto esame di maturità, ho la prima prova, il 17 appunto di giugno, se andrà a sbatte penso fino a fine mese, al massimo i primi di luglio e nulla, è questo che io volevo spiegarvi un attimo, il motivo per cui non stanno uscendo video appena finito tutto quanto, sperando nella buona sorte, tornerò operativo al 100% cioè voi rendetevi conto di come sto messo in questo momento specifico, cioè ho libri, fotocopie, appunti ovunque, devo ripassare insomma davvero tantissima roba e quindi voglio scusarmi un attimo per quello che sta succedendo e vorrei che voi capiate insomma, niente, era appunto questo brevissimo, questa brevissima comunicazione, io vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma e Abbasso Lazio